benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto proseguiamo nel nostro percorso sui le tematiche isg e quando si parla di isg immediatamente si collega questo acronimo al tema della sostenibilità ambientale che la fa un po da padrona oggi nel vissuto e nelle azioni che le imprese mettono in campo abbiamo sentito nel precedente episodio del nostro del nostro podcast e sicuramente quindi l'ambiente occupa un ruolo rilevante nel dibattito pubblico sulle tematiche di sostenibilità ma quello che noi vogliamo trasmettere con questo nostro ciclo di podcast è che la sostenibilità non è soltanto ambientale ma ha tante sfaccettature tanti elementi importanti correlati agli aspetti ambientali e uno di questi è sicuramente quella sociale noi riteniamo ma voglio dire lo ritiene anche chi promuove l'evoluzione isg che i cambiamenti climatici possono avere degli effetti che in qualche modo portano ad amplificare le problematiche sociali come nel caso dei fenomeni migratori o nelle disuguaglianze a livello globale quindi nel contesto in cui viviamo oggi l'acronimo isg risuona anche come un richiamo no importante potente alla coscienza e la responsabilità che può rappresentare un'importante opportunità per le imprese e quindi guardando alla lettera s dalla prospettiva aziendale oggi parleremo di uno degli stakeholder più importanti per un'impresa e cioè le persone anche se mi piace ricordare che appunto la tematica esse ha tante sfaccettature sicuramente le persone sicuramente il territorio sicuramente le comunità e in generale quella restituzione che l'imprenditore può dare al contesto in cui opera ma torniamo alle persone il valore che il capitale umano può generare all'interno di un'organizzazione è inestimabile e permettetemi di dire insostitutibile ed è per questo che c'è molto spesso una correlazione positiva tra le performance sociali e le performance finanziarie. La tesi che vogliamo dimostrare in questo chiacchierata che faremo sulla tematica social è che quando le persone stanno bene sul posto di lavoro anche i risultati economici ne risentono in maniera positiva. benvenuti a il valore del nostro futuro la serie di podcast di intesa san paolo on air dedicati ai temi isg io sono anna roscio sono executive director sales and marketing per le imprese della divisione banca dei territori di intesa san paolo oggi abbiamo il piacere di avere con noi claudia mormino human potential lead di nativa nativa è una società b corp nostra partner in tantissime belle iniziative che abbiamo fatto a favore delle nostre imprese oggi è un vero piacere e do il benvenuto a claudia con la quale chiacchiereremo di alcuni di alcuni temi in particolare oggi in la puntata e incentrata sul capitale umano perché il capitale umano le persone se vogliamo dirlo con un termine più più semplice rappresentano un asset fondamentale e strategico per l'azienda e sono evidentemente una delle componenti dell'acronimo isg quindi entriamo subito nel vivo della nostra conversazione con con claudia qui voglio porre subito una una prima domanda e è questa qual è il valore che le persone che il capitale umano può generare all'interno di una organizzazione e qual è il contesto odierno e perché oggi più che in passato diventa cruciale saper riconoscere e valorizzare le abilità le competenze le conoscenze che le persone hanno e mi viene da dire anche attrarre i talenti grazie anna e effettivamente giustamente dici le persone le persone in effetti sono ciò che costituisce un'azienda le aziende sono fatte di persone e non solo di macchine di materie prime di edifici tanto più se un'azienda si occupa di servizi le persone sono al centro e danno forma e vita alle aziende diventando quindi fondamentale poterle valorizzare la persona dunque il pilastro dell'azienda ed è necessario quindi avere un focus importante sulle persone per preservare sia le performance aziendali sia l'attrazione e la retention dei talenti a supporto di questo ci sono moltissimi dati che ci raccontano quello che sta succedendo nel mondo del lavoro durante la pandemia e subito dopo si è parlato del fenomeno della great resignation che sicuramente è stato un fenomeno a livello globale ma come ci racconta il ventiduesimo rapporto dell'inps che è uscito da poco in italia si può parlare piuttosto di great reshuffle quindi di un fenomeno diciamo di cambiamento del lavoro piuttosto che di resignation ovvero di abbandono del lavoro un altro fenomeno importante è quello del quite quitting secondo una ricerca della Gallup che è contenuta nel suo rapporto 2023 questo fenomeno riguarda sei persone su dieci quindi il 60 per cento della della popolazione e il motivo per cui le persone pur rimanendo in azienda di fatto è come se avessero perso la connessione con il proprio lavoro e il legame con la propria azienda adducono come principale motivazione proprio la scarsa possibilità di crescita interna e di coinvolgimento oltre a questo anche il lo stress percepito sul lavoro che sta crescendo negli ultimi anni da un 30 per cento di una decina d'anni fa siamo passati al 44 per cento riportato in questo in questo rapporto inoltre il 46 per cento delle persone che lavorano dichiarano che hanno cambiato lavoro o hanno intenzione di farlo nel prossimo nel prossimo anno e questo è un dato che l'osservatorio e c'era innovation practice 2023 del politecnico di bel di milano mette in risalto insieme al fatto che il 51 per cento della popolazione dei dipendenti dichiara di essere in cerca di una nuova occupazione sicuramente per poter migliorare il proprio salario ma anche per migliorare la possibilità di crescita e il proprio livello di benessere quanto a livello di engagement sebbene si sia rilevato sempre nel rapporto gallop 2023 c'è questo dato un leggero incremento rispetto al 2022 attestandosi al 23 per cento rimane il fatto che il livello di engagement e quindi il coinvolgimento delle persone risulta essere il uno degli elementi più importanti per per la retention è una delle cose sulle quali le persone intervistate dichiarano sia opportuno lavorare proprio per migliorare questo fenomeno del quiet quitting tra l'altro in italia risultiamo essere veramente fanalino di coda in italia la percentuale dei dipendenti che si sentono coinvolti è veramente il 5 per cento quindi un numero davvero preoccupante considerato che all'employee engagement sono collegati aumenti della produttività e anche diminuzione del tasso di torno e di assenteismo allo stesso modo il benessere è un fattore importante perché diciamo al benessere della della persona è legato l'aumento dell'engagement quindi c'è una correlazione positiva oltre che la fidelizzazione della della persona rispetto all'azienda e la ricerca ci dice anche una correlazione con maggiori ricavi maggiore fatturato capiamo quindi come per un'azienda sia davvero cruciale curare il rapporto con le proprie persone e creare un ambiente di lavoro che sia coinvolgente motivante che consenta un buon work life balance e che favorisca il benessere personale tutti elementi dunque che sono davvero importanti sia per attrarre e ritenere le persone ma anche per assicurare che queste persone portino il proprio pieno valore in azienda sì quindi claudia abbiamo citato più volte la parola benessere no del delle persone come fattore cruciale anche per il valore dell'azienda per la crescita del dell'azienda abbiamo capito che c'è un po di sala da fare in italia su questo su questo fronte voi come nativa avete contatti con tantissime aziende che aiutate no anche in questo percorso di miglioramento sulla non solo sulla s ma in generale no sui valori isg e dunque dal vostro osservatorio cosa vedete come le aziende stanno attrezzando c'è consapevolezza hanno bisogno di essere accompagnata ecco qual è il vostro punto di vista rispetto a quello che le aziende in particolare le piccole medie oggi stanno facendo su questa componente no del nostro acronimo isg e soprattutto insomma per portare valore in chiave di benessere aziendale e appunto anche poi diventare attrattive verso i talenti sì dunque ovviamente ci sono degli aspetti che come dire ci portiamo dietro storicamente e che potremmo definire fattori diciamo materiali che aiutano ovviamente e che sono molto diffusi all'interno delle delle aziende e mi riferisco quindi ovviamente gli aspetti retributivi alla possibilità di garantire una certa flessibilità ultimamente a queste offerte materiali vengono aggiunti anche non solo la frutta fresca in ufficio la palestra un tempo si parlava molto di asili nido sicuramente questi sono tutti quanti elementi importanti ma non sufficienti anche perché come abbiamo imparato le aziende se ne stanno rendendo conto sono un tipo di offerta che anche i nostri competitor potrebbero ovviamente offrire alle persone e che tra l'altro la ricerca ci dimostra non hanno un effetto duraturo quanto a benessere e coinvolgimento delle persone quindi l'obiettivo che le aziende devono perseguire e quello che cerchiamo anche noi come nativa di aiutare a fare è quello di creare un approccio sistemico che possa garantire effetti di lunga di lunga durata e quindi insieme a queste offerte più materiali è importante concentrarsi su altri fattori prima di tutto l'opportunità di sviluppo e crescita come i dati di cui vi parlavo dimostrano un altro aspetto importante su cui occorre fare uno shift è l'attenzione al creare un senso di connessione di comunità tra le persone questo soprattutto dopo un periodo in cui proprio a causa della pandemia le persone tendono a restare molto di più a casa generando un fenomeno di isolamento una terza e ultima componente che per noi è davvero importantissima è la condivisione del significato e dello scopo dell'azienda che diventa un fattore di aspirazione sia per l'esistenza dell'organizzazione ma anche di senso per i dipendenti che fanno parte diciamo e per le persone che fanno parte di quell'organizzazione occorre quindi senz'altro ridisegnare il cosiddetto employee journey e quindi questo è un nuovo trend che sicuramente vede le aziende forse quelle un pochino più illuminate e di frontiera maggiormente con la strutturazione di processi interni alle aziende che abbiano appunto al centro la persona quindi è sicuramente un trend rilevante soprattutto se consideriamo che oggi all'interno delle aziende esistono fasce di popolazioni molto diverse tra loro penso ad esempio alle differenze generazionali in alcune aziende abbiamo la coesistenza di cinque generazioni pensando magari all'imprenditore che può essere una persona che addirittura è sopra i 70 anni e alle nuove generazioni che si affacciano quindi persone di appena 20 anni che appunto rappresentano comunque la compagine delle persone che sono in aziende quindi come dicevo è importante nel disegnare l'employee journey e tenere conto di queste differenze generazionali ecco uno strumento che noi abbiamo rilevato essere davvero cruciale come ponte e collante tra le generazioni è proprio il purpose quindi questo senso e scopo ultimo e alto dell'azienda che riesce ad essere un elemento di conversazione e di legacy se vogliamo nel tempo attraverso le generazioni per l'azienda quindi è sicuramente un elemento che le aziende iniziano ad abbracciare anzi direi che molte ormai ne fanno il proprio cavallo di battaglia un altro elemento molto importante come dicevo poco fa è la formazione che è uno degli elementi se vogliamo lo strumento principale e cardine per garantire opportunità di sviluppo e crescita la formazione anche questo è un tipo diciamo di strumento di sviluppo che deve essere ridisegnato e le aziende hanno iniziato ad utilizzare e a proporre strumenti di formazione più innovativi in quanto è sempre più grande e crescente la domanda di formazione e di apprendimento che sia personalizzata che sia possibile diciamo effettuare in maniera asincrona rispetto al lavoro e che possa essere realizzata anche attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi oltre che con la job rotation quindi la formazione deve diventare sempre di più uno strumento personalizzato e personalizzabile attraverso il quale ciascuna persona possa andare a formare e sviluppare delle competenze che siano più trasversali che le consentano di quindi occupare più ruoli all'interno dell'organizzazione continuando questo processo di apprendimento continuo che è una parte così importante del benessere e del coinvolgimento appunto della persona grazie Claudia allora veniamo a voi a Nativa perché adesso ci hai raccontato un po' il contesto quello che Nativa mette a disposizione per le aziende per lavorare sulle persone per lavorare appunto sulla S del nostro acronimo ISG l'importanza e la centralità delle persone come fattore di crescita di produttività di redditività Nativa è una società che è prima di tutto una società B Corp e che prima ancora insomma di raccontare questi aspetti alle proprie aziende clienti le ha attuate all'interno della propria organizzazione diventando anche un esempio un modello di eccellenza da replicare quindi questo anche con una modalità di approccio che in qualche modo dovrebbe caratterizzare un po' tutti i principi di sostenibilità prima comincio io e poi racconto e traino i miei clienti ecco ci racconti in sostanza in Nativa che stile che pensiero si respira quindi il concetto del benessere del purpose dell'engagement ecco come l'avete realizzato e come e come sta andando intanto direi che oltre che essere una B Corp la prima in Italia siamo anche la prima società benefit in Italia e sono due concetti diversi come probabilmente i nostri ascoltatori sanno l'essere B Corp è un percorso di misurazione del proprio impatto che consente di ottenere appunto l'appellativo di B Corp e l'essere diventati società benefit invece ha comportato e comporta per le aziende che appunto intraprendono questo percorso la necessità di modificare il proprio statuto e di inserire all'interno appunto dello statuto aziendale non soltanto una finalità economica quindi quella del profitto ma anche altre finalità cosiddette di beneficio comune che consentano all'azienda di dichiarare e quindi di impegnarsi sul raggiungimento di un impatto positivo a livello di ambiente e di persone quindi qui di nuovo torna il concetto della S di cui si parla oggi quindi nel nostro purpose e nelle nostre finalità di beneficio comune i temi di cui stiamo parlando la fanno da padroni il nostro scopo aziendale è quello di accelerare la transizione delle aziende verso un paradigma che sia rigenerativo perché il concetto di sostenibilità per noi può essere in qualche modo superato parlando appunto di un approccio al business rigenerativo in cui l'impatto e il valore che l'azienda produce non è soltanto appunto di tipo economico ma anche è un valore che viene speso a favore appunto dell'ambiente delle persone per raggiungere questo scopo a statuto nativa ha inserito il benessere la felicità delle persone che fanno parte di nativa quindi il mio ruolo ad esempio è centrale proprio nel perseguimento di questo di questo scopo e ovviamente non pensiamo di poter avere in assoluto la bacchetta magica e produrre la felicità dei nativer ma sicuramente abbiamo individuato nella possibilità di esprimere il proprio pieno potenziale lo strumento attraverso il quale nativa coopera e supporta il benessere e la felicità dei nativer quindi come vedete come dire il nostro purpose è proprio al centro delle nostre strategie verso le persone di nativa e poi un po più concretamente diciamo come come mettiamo a terra questi concetti sicuramente cerchiamo di coltivare un ambiente di lavoro nel quale sia possibile esprimersi liberamente nel quale dare spazio anche idee divergenti che diventano la possibilità di ottenere un valore più alto maggiore rispetto a quello di partenza quindi è molto importante per noi praticare l'ascolto attivo ma anche coltivare il growth mindset come si dice in inglese cioè la cultura dell'errore come possibilità e opportunità di fare di fare meglio per questo cerchiamo di promuovere innanzitutto la consapevolezza di sé che ovviamente il primo passo di qualunque percorso di evoluzione e di crescita ma anche una cultura del feedback costruttivo che consente appunto di imparare dalle esperienze che vengono fatte e che lasci spazio anche alla intraprendenza cercando un pochino di lasciare andare il controllo ovviamente non è semplice è un percorso nel quale siamo tutti responsabili e protagonisti per noi il valore più alto è quello della co creazione insieme alla collaborazione per noi come diciamo spirito guida ci guida il valore dell'interdipendenza che è una componente fondamentale anche del movimento delle b corp quindi garantire un ambiente sicuro all'obiettivo di permettere alle persone di fiorire secondo appunto quelle che sono le proprie le proprie inclinazioni i propri talenti e proprio per questo abbiamo sviluppato una serie di strumenti di gestione che mettono di nuovo il nativer al centro uno tra tutti ad esempio il profilo del nativer quindi quello strumento che è a disposizione di tutte le persone in nativa per coltivare l'espressione del proprio piano potenziale è appunto centrato sul nativer stesso quindi all'interno di una cornice di comportamenti di conoscenze di competenze che sicuramente rendono più efficace il perseguimento del nostro scopo della nostro purpose lasciamo che sia il nativer a decidere nell'arco di un percorso triennale quali sono le linee di azione sulle quali desidera mettere le proprie energie e non è detto che queste linee di azione debbano per forza riguardare qualcosa che non va potrebbe riguardare questo percorso di crescita con un gant di azioni su cui il nativer si impegnerà nell'anno dicevo potrebbe riguardare anche elementi sui quali il nativer già brilla e che possano diventare il suo talento più importante grazie claudia devo dire che la testimonianza di nativa è molto molto interessante e concludiamo questa puntata del nostro podcast riassumendo un po gli argomenti che abbiamo affrontato con con claudio abbiamo parlato della centralità delle persone nell'ambito dell'azienda quindi un'azienda che è fatta di tante componenti ma che deve avere le persone al centro come leva per la crescita e per il proprio miglioramento abbiamo ascoltato qualche numero sugli studi attuali per comprendere qual è oggi il sentimento delle persone che lavorano nel sistema imprenditoriale e abbiamo capito quali sono gli strumenti che le aziende possono e mi permetto di dire devono mettere in campo per migliorare appunto la componente S dell'acronimo ISG non solo strumenti materiali tangibili come la soluzione come i sistemi di welfare come i meccanismi di equilibrio tra vita privata e vita lavorativa ma anche soprattutto un'azione di coinvolgimento di engagement delle persone che punta alla realizzazione di un benessere di una soddisfazione delle persone nel affermarsi prima di tutto come persone nell'ambito dell'azienda e infine abbiamo ascoltato un caso di successo che è proprio quello di nativa che queste cose questi principi questi strumenti oltre a raccontarli alle proprie aziende li mette in pratica con con grande successo ed è sicuramente un bell'esempio anche per le nostre imprese dopo aver ascoltato la testimonianza di claudia mormino di nativa adesso è il momento della testimonianza aziendale abbiamo scelto come negli altri capitoli negli altri puntate del nostro podcast una delle aziende che ha partecipato alle attività dei nostri laboratori esg intesa san paolo sul territorio e che ha avviato un percorso di crescita e di cambiamento che oggi ci racconterà abbiamo il piacere di sentire stefano gandolfi amministratore unico della società italtrike italtrike produce nella propria sede di pieve del grappa giochi per bambini ricicli monofattini biciclette ed altri giochi con ruote oltre il 90 per cento della nostra produzione viene esportata in circa 50 paesi abbiamo da sempre una visione internazionale dei mercati pur tuttavia vogliamo conservare coltivare la storia ed i valori che ci legano al territorio dove siamo cercando di trasmetterli con il nostro operato con i nostri prodotti ai nostri clienti sparsi per il mondo i nostri prodotti infatti ci rappresentano rappresentano la bellezza del territorio rappresentano il nostro modo di lavorare rappresentano l'amore e la passione con la quale quotidianamente operiamo oggi giorno le modalità di fare aziende sono cambiate rispetto al passato abbiamo avuto modo di vivere le esperienze che i nostri padri fecero come imprenditori e questo ci ha aiutato a sviluppare una cultura diversa più completa e moderna ma legata alle nostre radici riteniamo che l'azienda non debba avere come unico fine il guadagno economico bensì debba svolgere il proprio compito con modalità e responsabilità diverse deve imparare a guardarsi attorno e comprendere di fare parte di essere parte di un sistema sociale ed economico che vive attorno all'azienda stessa italtraic ha da tempo una propria identità e ha sempre operato facendo riferimento ai propri valori grazie a intesa san paolo abbiamo incontrato e conosciuto nativa con loro abbiamo parlato e compreso sempre di più l'importanza di intraprendere un percorso più strutturato che ci porterà a divenire società benefit salute e benessere dei nostri dipendenti è parte del nostro percorso da oltre dieci anni siamo certificati ISO 45001 salute e sicurezza dei lavoratori questo significa rispetto delle leggi e delle norme cogenti ma non basta abbiamo attivato ulteriori iniziative di welfare per la prevenzione della salute dei nostri collaboratori e collaboratrici abbiamo da alcuni anni attivato una linea di prodotti per bambini con disabilità motorie per avvicinarli ad altri bambini più fortunati di loro aiutiamo e recentemente lo abbiamo fatto in collaborazione con intesa san paolo associazioni benefiche che trasmettono momenti di gioia bambini ospedalizzati collaboriamo con cooperative che aiutano ad inserire nel mondo del lavoro giovani donne e giovani uomini altrimenti abbandonati abbiamo attivato col nostro partner zero co2 la foresta italtrife in guatemala ogni anno piantiamo 500 alberi da frutto che oltre ad assorbire anitride carbonica danno sostentamento a famiglie di agricoltori locali la responsabilità sociale non è un obbligo non è una moda che nemmeno una legge è una grande opportunità che le aziende di oggi devono sempre più comprendere ed inserire al proprio interno grazie claudia grazie a voi per averci seguiti e arrivederci alla prossima puntata dei podcast di intesa san paolo grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio grazie a tutti